In A1 In Fipilin direzione Firenze, 2 km di coda per lavori di messa in sicurezza del viadotto di Ponzano, tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. In direzione Mare, code a tratti tra Scandici e la Strassigna, con code all'uscita di la Strassigna. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Donato e Poggi Bonsi Nord in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!